Grazie Presidente. Articolo 2 della proposta oggi in esame, definizioni, comune o amministrazione, il comune di Roma nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative. Così parte il regolamento, comune di Roma, primo refuso evidentemente è pieno, cioè non c'è neanche che per sbaglio in una definizione si chiami Roma capitale, cioè come deve essere. Non è una questione di forma, è una questione di sostanza, vuol dire che si è preso un regolamento di un'altra città, probabilmente di un comune, e lo si è paro paro riportato all'amministrazione comunale capitolina. Quindi non è che è un errore di refuso, qui c'è proprio la volontà di prendere, copiare e riutilizzare. Il che è molto positivo laddove funziona, ma siccome Roma capitale è una capitale, dà una complessità tale che non può essere paragonata ad altri comuni che sono molto inferiori alla metà dell'estensione e della complessità di Roma capitale, è chiaro che la forma in questo contesto diventa sostanza. Ora, oltre a ciò, andiamo a dire come voteremo questo emendamento presentato dai proponenti come l'emendamento risolutivo ad una serie di problematiche per cui avevano ricevuto parere negativo dagli uffici. Un emendamento che continua a ricevere il parere negativo degli uffici, non è che noi limitatamente a questo motivo voteremo negativamente e poi ci esprimeremo meglio nell'espressione di parere su questo regolamento quando andremo in votazione alla proposta di delibera. Quindi no a un emendamento che non supera le criticità che doveva superare.